voglio proprio vedere sto 11 84 più quanti toti c'è da tanti forse pure troppi c'è proprio c'è riempio ma vedi una luce blu da quelle che rimane così rimane vai no ea air blu ha visto già sperato e poi a rivederci e basta ma ancora rolfo baro tercazzo non dupi giramo tutti ai secolo dietro vabbè dai poter anno a peggio ma aspettavo zero workout no fifa è la tua vita ha nessun lavoro niente di niente mi dispiace ho premuto io forse ma andiamo ad aprire questo 11 84 sono proprio curioso di vedere che cosa esce giappo vai a no dire di no forse sì perché mi hanno copiato il nome però per sé che ne si gira con un buon if un ansia colomone in copertina nemmeno così male no infatti assolutamente e johnston 91 di fisico verso johnson oh arrivo arrivo gioia dai su mario doppio if vabbè appartiene a scrivere sotto ma fino a quando ti dà sta roba nemmeno corribile solo che insomma voglio trovare un toti a uno di voi se può voglio trovare un toti io me so trovato cinque toti mi faccio me in vergogno pure un po voglio trovare un toti a voi a rauco vabbè se gira a rauco si in culo se gira mamma mia portirogna vabbè scusami se ho trovato smith d'alland e bruin c'ha sui e messi su ogni account ho trovato un toti questi ti lascerei così da ci fai un aggiornamento bella ragazzi vi ricordo sempre che se siete alla ricerca di crediti per gli afc 24 scontati veloci e sicuri vi lascio il link in descrizione con il codice sconto yoshi quindi mi raccomando fatene ovviamente buon uso e in maniera intelligente io vi do un bacione e ciao barcellona si poi mozzo leva questo no mi sono sbagliato leva da cosa metti questo via eh si da suarez giardino babbuschets messi se co bell si gira ciao io ma ci sono ancora i toti si gli ultimi 24 ore con i toti si di ronald è infortunato no io vareva ansen invece qua adesso vabbè sa vedemmo più o meno e vareva pianta e paio rauco ma ne manca un brutto pacco questo eh per carità però per i toti sinceramente potevi fargli in più secondo me vai 15 milioni per vantai che proprio qua dentro non c'è stai cazucca alla fine il prezzo lo fanno loro eh il prezzo lo fanno loro vittor oh simen sotto chi ci abbiamo cantero trigo eh lelli che mazza manco nif niente pacco de merda non sa perché continuano a chiederli il gioco non li troppa tra le altre cose impossibile trovare carte blu borg mamma mia l'hai nominata mo provo a dire tipo kevin de bruin provo a dire magari esce ma è olga carmona ecco qua doppione non scambiabile eh secondo me proprio la risposta è proprio sì esattamente perfetto dai fortissimo ultimo 675 sai cosa che a me le icone non mi serve niente su quell'account ma niente non è che lo vorrei tanto a me due anni auguri a noi io minore di tre un bacione bello e ben tornato tutti smettono prima di ricevere il grande premio mmm sì lu non tutto però molte cose sì molte cose le portano ho preso pure il materasso del letto calcola buono doppio 86 mamma mezzo serie di pacco ma quello che oh ma quello alleva oh ma quello alleva del picco non l'ha mai rimesso ma come cazzo è possibile scusa qua non mi ridanno ma chi è dati non ce stanno più comunque il pacco mio è stato il migliore fino adesso cioè vuoi o non vuoi il pacco mio è stato il top del top sì 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 no hanno fatto una barca dei sordi buon per loro nel senso però insomma pure magari non esso odiati da tutti quelli che giocano potrebbe essere un punto in avanti una cosa in più potrebbe essere cioè non essere detestati da chiunque male ne è voluto uno degli altri tipi sì sì è assurdo male ne è voluto l'ho fatto sull'account decollo io ho lasciato lì beh grazie 17 ben tornato ciao bruttacchione il mio amico baffone questo mese sta molto bene puoi augurargli di passare l'esame dell'AIDS ciao nabo in bocca al lupo baffo mi raccomando no che ma c'era già un sacco di gente come te niente sto pacco niente no perché poi fa sta molto bene vabbè l'Eco si sente poco ma domani mi arriva un po' di roba tra i prossimi giorni per riempire la stanza insonorizzare in parte che poi è l'unica camera di casa con l'Eco perché quella vota fondamentalmente cioè sto a mettere le cose ma sto a vedere bene che mette ti posso dire insomma le quest'estate ci sono stato mese a fine agosto era nato che periodo era? sì mese a fine agosto siamo andati in Islanda a Praga ci sono stato sì ci ho fatto terzo liceo campo scuola lasciamo stare non è che mi ricordo tanto cazzo cazzo te posso oh no forse era il quinto anno no no era il quinto anno non era il terzo mi sto sbagliando no no era il quinto era il quinto sì sì era il quinto era il quinto anno era l'ultimo anno dovresti provare su FUTWITS mi sa c'hanno delle combo pazze non lo so però sto con 184 ah sì beh pensate sì probabilmente sì ah però Bellingham Todi vale ho capito c'ero stato amico ci sono stato Maurizius ci sono andato non novembre però ma se gennaio mi pare però sempre d'inverno ci sono andato e faceva a Roma faceva freddo mi è capitato dal Natch oh no pistacchiano non ci sono stato eh ho letto Valbo sì non sono stati molto svegli quelli di EA che non sono stati in grado di di fixare il drop del del pick 86 più e quindi non lo hanno fatto uscire e vabbè avevamo messo un pick figo non ve l'ho beccato quello forse quel pick era anche senza Messi la possibilità più alta di trovare un Toti perché comunque era un buon pick 86 più a 3 costo giusto ho visto gente che ci ha trovato altri Toti oltre a Messi stesso quindi quello era veramente un buon pick ciao bello e se sarebbe ricaricato oggi quindi te ne dovevo da due no non ci sono mai andato pure quel pick 85 che mettevano con gli altri eventi ma se poteva io veramente sono allibito l'evento dei Toti quando esce divideranno per ruoli bright e sinta 1 e 2 1 e 2 c'è piavino un ben dia l'altri anni oh otegaard e coates boni mamma mia che disastro mamma mia che disastro sti pacchi pure ho sculato io parego oh no chi m'è bono ma mi fa vedere una luce blu che poi pure le sbc dei giocatori cantè posso dire la mia una merda colossale 2-3 è orribile e Bruno Fernandes è buono dico ok pure il body è buggato poi è uscito Sawa Icona tre centrocampisti che cazzo io dovevo tutti sti centrocampisti allora preferivo che mi rifacevano Suarez sicuramente con Messi sarebbe stato una hit best è forte ma costa comunque 1.9 boh a me sinceramente Modric a router cazzo poi ridicolo menzioni dico proprio lsbc flashback dei todi una cosa un po' più carina se poteva fare pensato pure quara quello che poi ha fatto due weekend league una cobest una coquara a me coquara mi è piaciuto il più pensavo che per sfida i roll da sfida di querculi di sud tra i m mamma mia quervaranne però erano belle carte secondo me suarez quest'anno poteva uscire tranquillamente poteva uscire veramente bene no no ma non è scarso manco su su old per carità è forte è una bella carta però secondo me già 1.7 è troppo pure è vero che i toti non è uscita roba da farmazzo provali entrambi poi mi dici c'ha un r1 combinato con quel body che assurdo e me se sbaglia pure meno gol tu te fai nell'altra carta costeranno una bar che faranno schifo al cazzo daje che usabbi a me vendersi nei rice a 3.5 per togliere beh rimpiazzarlo con gullit ci potrebbe stare ci potrebbe ci potrebbe stare in realtà una giocata del genere ma potrebbe essere pure in caso in realtà poi è da vedere possiamo per favore vedere un toti questo vi fa capire pure il drop perché quanti pacchi è che stiamo apri da tutta la settimana da tutto quanto da una vita c'è tutta la settimana che apriamo pacchi su pacchi che troviamo luca modric odegard tonicross luca modric cross odegard di allevandoschi meno male e te credo di quasi sei la bomba di ma capisci che sopprezzi proprio fuori da testa ti posso dire potrebbe giocare quasi a tutto campo non lo so io prima l'ho provato che l'ho trovato non si muoveva malissimo con l'r1 non era un giocatore che ha la palla ancollata tutto fiu fiu però se te piace quello che spam finesse comunque c'è un finesse assurdo poi magari lo giochi falso 9 invece spari tutti i lance all'altra punta giocabile secondo me anche in questo modo loftus casemiro lorenz leao assai che sciagura di pacco pure questo tutti i costo messi prometto ti piago ieri perché a sto punto lasciavi il backdrop si aprivano tutti a riederci e grazie che poi ti ripeto dove usci pure oggi mi pare no ovviamente è forte forte per caità però se potrebbe sta pure cambiarlo mette uno chi vede un po' più drivo quel bruno ferrandes è forte ma vabbè quello che vi pare però quel bruno è veramente solido quara giocine rombo c'è il play style sui filtranti quindi direi come fa sì e quella è un'altra cosa che mi piaceva di quara i passaggi facciano un sacco bene col triangolo se mi guardo guardo stavo a ducere play stavo a guardo tutto guardo pare ecco pacone pure questo è